cari amici youtubeiani bentornati e ben ritrovati questo è un video che faccio dopo tanto tempo come un po' già avevo detto e come al solito smentendo ogni cosa che dico faccio sempre il contrario di quello che dico o più semplicemente faccio altro è un periodo molto particolare voglio registrare questo video perché voglio insomma condividere con voi alcune sensazioni così a caldo che che vivo in questo momento e soprattutto in seguito ad alcuni avvenimenti accaduti tre cose punto numero uno l'italia ieri ha fatto una bellissima partita abbiamo visto una fantastica direi anche emozionante squadra che si è lasciata andare insomma che ha vinto ha dominato è saputa ha saputo essere padrona del campo battendo la turchia che fondamentalmente la turchia non è che voglio dire sia l'ultima arrivata anzi è stata una bella squadra ostica soprattutto nel primo tempo che si è chiusa proprio catenaccia e sono stati proprio catenacciari i turchi nel momento in cui hanno dovuto per forza cercare di sostenere di insomma di far di farsi valere comunque cercare di affrontare l'italia che comunque ha sempre attaccato a parte diciamo quegli episodi di rigore perché secondo me i rigori erano anche due il primo clamoroso ovviamente non dato alla fine del primo tempo gli altri due sempre nel primo tempo un paio di falletti di mano vabbè ma quelle sono cose che possono succedere e quindi abbiamo dominato è stato un bel 3 a 0 secco bello prendi e porta a casa onore ai turchi mamma li turchi e come dire io vedo in questa squadra una freschezza che mancava da un tempo non abbiamo il fenomeno nella squadra italiana ma abbiamo tanti piccoli grandi giocatori che se la cavano bene cioè secondo me riescono a dare quel quel tocco che in maniera molto così orizzontale che secondo me può portare l'italia avanti e speriamo che insomma vada avanti anche se è chiaro che insomma il cammino è molto difficile dicevo non abbiamo il fenomeno non abbiamo un ronaldo non abbiamo altri fenomeni che insomma fanno parte delle altre nazionali però insomma io vedo anche nelle interviste che sono state fatte dopo vedo delle 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 belle facce ecco sentito l'intervista anche di insigne di giro immobile delle belle facce insomma puliti questi calciatori che non sono personaggi ma sono calciatori umili grandissimo mancini che è riuscito a costruire una bella squadra coesa e mi ricorda un po la nazionale di lippi quando si parlava di gruppo non so se ricordate che quando abbiamo vinto la coppa del mondo non c'è stato un campione ma ci sono stati una serie di campioni lasciamo stare sappiamo benissimo che erano altri nomi altri periodi eccetera però volevo dire che nella nazionale di lippi campione del mondo nessuno ha come dire ha primeggiato tant'è vero che tutti i gol erano più o meno segnato un gol hanno segnato un gol a testa un po tutti non c'è stato il capo cannoniere siamo ritornati mi chiamavano per una cosa importante ma questo non è importante per voi comunque dicevo la nazionale vabbè insomma la nazionale ce ne saranno tantissime che ne parleranno eccetera io invece volevo condividere con voi una sensazione che ho vissuto tra ieri e oggi una sensazione sono tutte e due sensazioni un po spiacevoli più che altro perché mettono in risalto i tempi che passano voglio dire ieri ero davanti a un supermercato stavo andando ovviamente a fare spesa venerdì sera c'era un sacco di gente certo momento ho visto uscire una donna con una busta d'acqua c'è una cassa d'acqua piegata verso la destra che poverina non ce la faceva probabilmente era una donna sola perché aveva fatto la sua spesuccia eccetera mi ha fatto una grande tenerezza il mio slancio era quello di andare verso di lei e dire la posso aiutare posso dargli una mano però poi mi sono bloccato mi sono bloccato perché ho avuto paura ho avuto paura perché perché sono un po' intimorito nell'ultimo periodo ad avvicinarmi verso le persone non per il covid ma per quello che sta accadendo intendo dire che c'è una vera e propria guerra mi viene da dire o comunque battaglia sia di genere che di come dire di non lo so di relazione sembra oggi che tutti quanti abbiano paura dell'altro e fondamentalmente c'è una grande ritenzione nei confronti della relazione c'è uno sconosciuto che si avvicina verso di te e ti chiede se hai bisogno tu subito hai paura immaginavo questa donna appunto che era una donna anche piacente nel senso che però insomma una donna in difficoltà avrei dovuto avere il coraggio di avvicinarmi però fondamentalmente avevo paura che potesse reagire in maniera quasi come se ci fosse una violazione della propria persona e quindi mi sono mi sono mi sono trattenuto e l'ho seguita con lo sguardo e l'ho guardata andare verso la macchina la macchina che teneva lontanissima insomma l'avrei potuto aiutare mi avrebbe anche fatto molto piacere perché ho visto che era sofferente questa cosa è una cosa che mi fa molto riflettere perché non voglio fare il retorico il fazioso però ci sono dei momenti in cui ti rendi conto che probabilmente avremo bisogno di azioni che rompano un po' questi schemi che sono azioni che vanno un po' a ritornare che vanno un po' a cercare di nuovo di tornare a quelle a quelle azioni semplici che possono semplicemente appunto semplici semplicemente migliorare la qualità della vita come quando si faceva l'autostop e la gente ti dava i passaggi come quando appunto gli amici ti chiedevano tu chiedevi a un estraneo in lambretta o in motorino o una motocicletta se magari poteva darti un passaggio da qualche parte all'altra come chiedere una sigaretta come appunto portare la spesa una busta della spesa pesante di una persona di una donna un anziano in difficoltà oggi è un po' diverso la stessa cosa mi è successa stamattina una cosa diversa che però mi ha fatto molto riflettere stamattina ho avuto una telefonata sul telefono fisso che non squilla mai perché ormai chi è che chiamo sul fisso o le telepromozioni le promozioni scocciantissime alle due di pomeriggio o boh quelle cose che tu rispondi e spenga e cade la linea e insomma mi squilla il telefono di casa e mi risponde un bambino d'altra parte mi chiede signor giuseppe fonzo faccio sì sono io buongiorno mi fa questo bimbo io dico buongiorno posso fargli una domanda certo puoi farmi una domanda ci mancherebbe quindi già sorpreso da parte mia che un bimbo mi chiedeva questa cosa e secondo voi perché mi dava del voi il mondo migliorerà o peggiorerà e allora ho fatto che domanda è e allora io gli ho chiesto senti caro non so come ti chiami come ti chiami mi chiamo vincenzo mi dice secondo te il mondo migliorerà o peggiorerà e lui mi ha detto secondo me migliorerà e allora ho fatto anche io credo che migliorerà il mondo quindi se lo pensi tu che sei un bambino e che quindi hai molte speranze lo penso anche io e sono molto contento di dirti questa di darti questa risposta poi ha continuato cioè no perché io sono testimone di geoa e sto parlando con mio padre a fianco e questa cosa mi ha fatto veramente incazzare perché ho pensato ma che cacchio ma c'era una possibilità di avere un dialogo mi faceva io speravo che fosse un bimbo che chiamava per la scuola per fare quei quelle non so come si chiamano i sondaggi magari spinti dagli istituti dalle professoresse ci sono queste cose e invece no era un bimbo figlio di un testimone di geova indottrinato da un testimone di geova perché a sei anni tu puoi veramente pensare il salmo 12 della lettera degli apostoli di san paolo cioè tu a sei anni mannaggia la miseria come puoi metterti a fare queste riflessioni e nel momento in cui le fai per uno scopo didattico o anche se vogliamo usare questo termine che a sei anni non esiste culturale va bene ma nel momento in cui tu hai dietro tuo padre che ti fa fare le telefonate testimone di geova perché non potete andare ora per il covid citofono per citofono questa cosa mi ha fatto veramente incazzare e a quel punto io gli ho detto senti scusami perché lui continuava mi metteva in mezzo i salmi metteva san giovanni ho fatto senti scusami adesso ti ho risposto ti devo lasciare ma avrei voluto molto parlare con il padre per dirgli ma come cacchio fai ma come cacchio ti permetti a mettere tuo figlio io avrei dovuto denunciarlo per sfruttamento perché questo è indottrinamento è sfruttamento e mannaggia la miseria nel momento in cui c'era questo velo di speranza questo velo di luce che si era aperta anche si era acceso attraverso il telefono subito 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 questa delusione ma perché chiedo io ma per quale motivo ma perché dico io ma per quale motivo ma non lo so guarda veramente lasciate liberi questi bambini lasciate liberi questi bambini testimoni di geova già siete per alcuni aspetti fastidiosi e non voglio andare contro perché quella è una religione un credo va benissimo rispetto ma queste cose sono indottrinamento siamo nel medioevo va bene questa è la vera realtà perché nel momento in cui un bambino ti fa delle domande che sono lette perché si sentiva che erano lette da adulti ok che erano lette quelle cose che tu senti la cantilena del bimbo che ha letto il riletto e tu lo costringi un sabato mattina con il sole a fare le telefonate invece di uscire nei parchi a farlo libero dopo questo questo carcere che è stato il covid e che adesso un po ci stiamo liberando tu non sei veramente una persona sana di mente e tuo figlio avrà dei problemi nel momento in cui crescerà sarà un indottrinato e sarà un infelice non è contro i testimoni di geova ma sono perché ho degli amici testimoni di geova e sono molto discreti ognuno professa la propria religione il proprio credo come meglio crede ma ci vuole però non puoi pretendere che un bambino di sei anni si mette a telefono il sabato mattina o la domenica mattina intanto mi stanno arrivando i messaggi come solito questa cosa mi ha fatto veramente dispiacere oltre che mi fa incazzare comunque chiudendo questa discussione questo 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 video che non so quante visualizzazioni avrà ma adesso forse comincerò così è un bel sabato speriamo che la gente si riprenda perché stiamo andando verso una strada che non mi fa molto felice io vi saluto forza benevento non ce lo dimentichiamo mai e presto vi farò anche altri video ciao